Ecco vedete con noi in studio qui a Ragusa c'è l'onorevole Ciccio Aiello, il sindaco di Vittoria, non è collegato telefonicamente come abbiamo fatto altre volte, è qui con noi in studio. Grazie onorevole, grazie Ciccio per aver accettato il mio invito e questo invito credo che sia importante anche per voi, per la città di Vittoria perché potremmo approfittare per parlare di tante cose, abbiamo fatto altre interviste ma qui in studio viene più facile. Allora onorevole Aiello, sindaco, perché a Vittoria ci sono un po' tanti problemi per ora, anche il Consiglio Comunale è molto acceso, tu hai preso la città di Vittoria da qualche mese, quattro mesi, come l'hai trovata? Ma i problemi ci sono perché ci sono, Vittoria senza problemi, inimmaginabile, solo che negli ultimi anni questi problemi si sono ingangreniti, sono stati trascurati, la città abbandonata sia sotto il profilo della struttura materiale ma anche dei meccanismi identitari di crescita civile, insomma sono fatti conosciuti, è inutile ribadirle ancora in questa circostanza, eventi drammatici per la vita di una città, ti arriva una botta, ti arriva e quindi è chiaro che la depressione dei processi è inevitabile, purtroppo tre anni e mezzo di gestione commissariale sono stati lunghi e credo sotto questo profilo che la nostra esperienza possa servire anche al legislatore, al Parlamento a rileggere, a rivedere le leggi che disciplinano lo scioglimento e i commissariamenti, qualunque siano le condizioni non si può mai mettere sulla stessa bilancia la parte difficile, criminale di una città con la maggioranza dei cittadini e quindi quando si scioglie un comune bisogna sempre aver riguardo che la maggioranza dei cittadini è fatta da persone che lavorano, persone per bene, le minoranze sono forti, aggressive, ma la gestione commissariale deve riuscire a raccordarsi con la parte sana, non si può venire a dire che è una città irredimibile, lo si diceva di Palermo tanti anni fa ai tempi del Cardinale Pappalardo, il quale però era un difensore della città di Palermo, come di Loro Corlando che oggi amministra e governa, quindi problemi, problemi materiali, strutturali e di rinascita, di resilienza, però quello che io vedo a fronte di difficoltà che sono drammatiche c'è in profondità un'energia forte, un istinto forte alla rinascita da parte dei vittoriesi a guardare avanti, a battersi per produrre, per vivere, per sopravvivere, per creare, per ritornare in campo come grande città siciliana. Però Sindaco vedo che questo che dici tu, questa voglia, hai trovato un'opposizione molto guerrita, ma non avete lo stesso obiettivo di far crescere questa città? Bisognerebbe chiederlo a loro, guarda, io pongo, è un'opposizione ideologica sicuramente, mentre io mi sono reimpostato in questa campagna elettorale, nel mio modo di vivere e di pensare anche attuale, contemporaneo ai miei tempi, sul terreno della difesa del territorio, ho fatto questa scelta che non è una scelta ideologica, è una scelta pragmatica, fatta di riferimenti emotivi, di rapporto col territorio, con i suoi uomini, con le sue donne, con la realtà che ti circonda, un sindaco questo deve educarsi a questa visione di tipo territoriale, invece mi trovo ancora un'opposizione che non ha digerito la sconfitta perché pensavano che Aiello fosse ormai alla riserva, forse è una riserva così, un politico, in realtà così non è stato, la gente giudicherà poi alla fine, però credo che un'opposizione ideologica nel 2022 che non accetta la vittoria dell'avversario, ho vinto, io al primo turno ho vinto, insomma parliamoci chiaro, questo lo si deve sapere, quando anche siano mancate 56 voti, ma tu 56 voti te le bruci così, nei seggi annulli, un voto a seggi ho solo 70 voti annullato, riuscire a fare annullare un voto in più in un seggi, quindi io mi considero eletto al primo turno ed eletto con un ampio mandato popolare, che è quello che mi sostiene, mi è la gente che vuole comunque che vittoria rinasca, perché anche noi stessi in questi tre anni, quattro anni di commissaria, io non ho mai parlato col commissario, mai, non è stato possibile, è escluso che in qualche occasione in cui si scatenava dicendo cose incredibili, ma poi non abbiamo mai avuto occasione di fare un'intervista, magari uno solo, c'era uno che era più disponibile, non mi ricordo, quello senza i capelli, il dottore D'Erba, quello era più di là, era un ragusano, era un ragusano, ci conosciamo, era più disponibile, ma non voglio fare il graduatorio, però c'era anche il dottore Dionisi se ti ricordi che era, però onorevole Aiello, però qualcuno può anche pensare che tu sei entrato a gamba tesa, in alcune situazioni, perché tu dici ora ritiro una delibera, faccio il mercato, cambio tutto dopo quello che era stato fatto, parliamo ad esempio del piano regolatore, scusa io ho fatto, avevo un programma, no sono il sindaco, non è questione di sono il sindaco, io ho fatto un programma di punti precisi, qui mi comporterò in questo modo, qui farò quest'altra cosa, per cui tu arrivi al municipio e cambi faccia, quando arrivi al municipio e hai presentato un programma, devi realizzare quel programma, io dicevo piano regolatore, una cosa molto criticata, ormai l'abbiamo revocata in consiglio comunale questa variante, 17 anni, la legge, dopo 17 anni, in autotutela, no dopo 17 anni, ritiro una cosa fatta nel 2017, 17 anni per elaborarla, per discuterla, per metterla da un cassetto all'altro, da una discussione all'altra, per approvare nel 2017 una variante che viola la legge, che viola i dettati del consiglio comunale, che ti insedia una variante terminale in un piano regolatore che è in fase di esaurimento e quindi la variante doveva servire per assestare questo tramonto finale del piano Susani, che ti insedia 20.000 persone nuove nella costa, nella costa, in violazione, che ti modificano? 20.000 case, insomma, 5.000 case, 20.000 persone, con decine di migliaia di metri cubi di cubatura, che è stato approvato nel 2017, avviato burocraticamente, fermo, non se ne è saputo, più niente, io nel 2005 ho dato l'incarico per la variante, arriva il 2017, che cosa vuoi trovare? Dovrebbero rispondere perché l'hanno lasciato questo tempo di elaborazione, perché hanno non rispettato le direttive del consiglio comunale, sta attento, questa è una cosa più importante. Quindi il 5 era attuale, era intelligente questa variante? No, scadevano i vincoli, i vincoli urbanistici scadono ogni 5 anni e io in previsione, al terzo o quarto anno della scadenza ho dato l'incarico per la variante, per riapporre i vincoli, intanto c'era un passaggio anche di ordine culturale, di ordine urbanistico, dal regime vincolistico si passava all'urbanistica concertata, tu non puoi vincolare più terreno, devi mettere sul piano regolatore, ormai non è più possibile farlo, metti un vincolo e lo lasci lì per 40 anni, non è possibile, quindi cambiavano tante cose e noi eravamo in mezzo a questo cambiamento, quindi dovevamo fare una variante che al minimo in qualche modo indicasse i servizi obbligatori per il piano e quindi invece si è bloccato, bloccato con tutto ciò che ne consegue, terreni, cubature, spostamenti di cubatura da una zona C a un'altra, gente che magari voleva fare, ma non può fare più. Dopodiché io ho fatto delle battaglie all'epoca, durante 15 anni, sono arrivato ora, ho detto questa cosa è immortale per la città, è una cosa che serve a creare un condensoso, ci sono centinaia di opposizioni al TAR nelle zone cosiddette bianche, quando cade il vincolo del cittadino, dice ora che faccio? E si rivolge al TAR, TAR, opposizione del Comune, CGA, opposizione del Comune. Quindi ora, ritirando la delibera, dobbiamo ripartire? Si riparte, si riparte, intanto faccio questa battaglia, non necessariamente devo dire ora… E perché le opposizioni non sono d'accordo su una cosa del genere? Questo non te lo so dire, io ti posso dire che ci sono stati dei capovolgimenti di fronte Paurosi, all'epoca, nella fase dell'amministrazione Nicosia, Moscato votò con me un emendamento, 17 consiglieri, battemmo in quel momento l'amministrazione, dopodiché, dopo 10 giorni, 15 giorni da questa vicenda, avviene una ricomposizione politica in cui il piano diventa il luogo dell'incontro, chiamo, uso questo termine gentile, della pianificazione urbanistica, tant'è vero che nel 2017 lo approvano tutti assieme, lo approvano tutti assieme, in un'ora e mezza, insomma, in un'ora e mezza una variante che da 15 anni viene approvata rapidamente con tutto quello che ne consegue. Io ho annunciato a questo, allora intanto facciamo questo, mettiamo ordine, ora vediamo come dobbiamo gestire questa fase, se andiamo a una nuova variante oppure ci fermiamo, diamo delle indicazioni alla città per quanto riguarda i comportamenti urbanistici, ai tecnici, agli ordini professionali, ci consulteremo evidentemente, convocheremo la consulta per l'urbanistica della città, con gli ordini professionali e decideremo insieme, se non convenga a questo punto avviarci rapidamente ad una nuova fase della programmazione urbanistica della città, il piano Susane, grande, importantissimo, che parte dal 78 con l'approvazione da parte mia, tra l'altro del programma di fabbricazione, c'è sempre un agliello, cosa vuoi? Che ci posso fare? Che ci posso fare? È una questione proprio… Quindi state studiando come comportamenti? Come comportamenti e chiameremo tutte le cose, io ti devo dire, sto discutendo di come revocare la variante e mi dicono tu ci devi dire cosa vuoi fare? Fermo, calma, ci dacido, facciamo questo che è esenziale, diamo ai cittadini la possibilità, perché abbiamo approvato contestualmente il piano di dettaglio del centro storico, che è una legge del 2015, obbligava i comuni a farlo e non è stato fatto, io l'ho portato in consiglio, ora con il 110 la gente è impegnata in progetti, ferma e bloccata, quindi abbiamo liberato che sono poi soldi… Perché il 110 se non sei a posto… Niente, deve essere tutto… Quindi deve avere… Il piano di dettaglio del centro storico, che a Vittorio è molto grande, perché allora c'è tutta una storia… E c'è anche Scoglitti in tutto questo… Tutto, Vittorio e Scoglitti… Tutto, no, la questione costa, caro mio, quello è un problema, voi siete state più furbetti quando avete fatto i piani di recupero, almeno Angeleno ha provato i piani di recupero, voi siete più furbetti, più capaci da questo punto di vista… Qui siete un po' più raffinati, lo devo riconoscere… No, io ho più persone interessate… A cui devo riconoscere? A fare queste… Però io ho questo problema, questo problema e qualcuno vorrebbe risolvere, sai, facendo i misandri poi dopo 40 anni, ma che cosa conveniamo per condannarci altri 40 anni e invece bisogna con i piani di recupero avere questa forza… Diciamo che questa è una scelta che tu consideri… Una scelta dell'amministrazione, il Consiglio è approvato e quindi vado avanti… Senti, io volevo parlare della Vittoria dei Mercati, però due o tre volte abbiamo parlato del Consiglio Comunale… Sì… Ora, in questo Consiglio Comunale devo dire che c'è molta effervescenza… Sì… No? Non te ne sei accorto? Ma come no? Mi pare che l'altro giorno poi si è stato tirato proprio in ballo… Ma non è la prima volta qua… Un scontro forte… Ma quale scontro? Ma quale scontro? Il fatto è che io sono andato intanto in ritardo al Consiglio Comunale, perché questi sono riusciti per tre mesi a tenermi fuori dal Consiglio. Sì… Loro dicono che sei tu che non ci volevi andare… E io ti faccio la domanda a te, secondo te se c'è un obbligo di legge che dice che il Sindaco, come il Presidente della Repubblica, viene detto Presidente se ne va direttamente al Querenale, è chiaro, deve giurare alle Camere, così vale per i sindaci, il Sindaco fa un giuramento che non è un atto religioso, è un atto istituzionale, previsto per legge, previsto per legge. Se tu non mi chiami a fare questo passaggio e io mi metto la faccia e dentro, che cosa si prego? Come vuoi che io possa entrare senza avere giurato, se tu non me lo metti all'ordine del giorno, se lo metti non lo tratti, io ho messo lì nella stanzetta all'esterno con la fascia pronta… Ora già, ora già, se non c'è mai, io non mi facevo… quindi stai attento, purtroppo vedi questi mezzi, questi strumenti e la categoria… Scarzolino… bisogna, bisogna… Scarzolino… Scarzolino… Lo so… Non si può impirocchiare la gente fino a questo punto, insomma, di dire cose che non esistono… Mi metto nella categoria… Tanto, tanto, tu parli tu, parlo io, verità tu, menzogna… Non si capisce niente… Però… Però… Ciccio… Quando io poi ho giurato, io vado in consiglio, puntualmente in consiglio mi trovo… E che ho chiesto… e va a tenere a casa… e deve divertere… Arrucato… Arrucato… Così si arriva… Arrucato… Questo tizio furioso… Posso fare… Ma come si può rivolgere al sindaco… Ma non so impararlo… Dove… Dove queste cose possono accadere… Allora io, che prima di andare in consiglio mi faccio l'auto in grado… Stai calmo… 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 Non per favore… Perché lo sai… La gente guarda… C'è la televisione di Mario Papa… Sono onorevole… Dopodiché chi? Il mio… Tu… Dopodiché… Faccio una parentesi… Faccio una parentesi… Faccio una parentesi… Per aiutarti… Non sono… No… Nel senso… Faccio una parentesi per aiutarti… Il sindaco precedente di Ragusa… Che era il 5 stelle piccitto… Sul 100 consigli comunali… Sarà venuto due volte… O tre volte… Non ci andava mai… Sì… Il sindaco Cassi invece… Sul 100 volte… C'è stato 100 volte… E nessuno si è mai preoccupato… No… Che fai… Che non fai… C'è… 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 Guarda… Non è… Intanto perché bisogna distinguere… Quando siamo sui podi… Dovremmo essere controllati… Ma ve lo dice uno che è stata una specie di tribuno del popolo… Per cui… Io dico… Eh… Quando si andava in piazza del popolo a fare i comizi… Ancora io ci vado… Anche nei quartieri… Però oggi meno… Ci vedo… Perché la piazza è rotta ed è impraticabile… Però… Voglio dire… Il comizio da noi si usa ancora… Lo facciamo ancora… È rilanciato da Facebook… Dai media moderne… Noi lo mandiamo in onda… Ma il comizio… Il comizio lo facciamo… Però scusa… Sindaco… Una cosa… Però… Io non voglio fare paternare a nessuno… Una volta ho detto… No… Ma siccome va in onda… Lo guardano… Non sarebbe bene che vi parlate… E fate in modo che questa immagine… In qualche modo… Venga… Venga moderata… Bisogna… Bisogna… È molto difficile… Perché… Perché… È come Putin e Zaneschi… No… È un problema anche culturale… Insomma… Io mi sento da uno che ave… Guarda… No… Sulla età… No… Ma voglio dire… Ma poi il sindaco… Tu puoi avere… Puoi avere… Puoi avere pazienza… Ma quando arrivi… A questi livelli… Può scappare… Sai… Viene… Viene l'istinto… Poi… Se tu lo fai… Per un fatto ideologico… Lo fai… E non rispetti neanche la persona… L'età della persona… Il riferimento… Insomma… Sei uno che dimostra… Certo… Viene… Allora scappa… E siccome… Io penso… Che… Non si possa fare… Che questa… Non si debba fare… Quando sbaglio io… Anche con… L'ultimo… Il più minuto… Il più minuscolo… Delle persone… Io… Poi magari… Ritorno… Ritorno… Mi metto… Ci ritorno… Chiedo anche scusa… Non è… Comunque… Però… Quando tu… Ci vai una volta… E trovi questo clima… Ci vai una volta… È rassegnato… Basta… Il sindaco… Si chiama… Francesco Ail… Sei finito… Per ora… Sei finito… E quindi… Questa è un'altra cosa importante… Perché lo dico anche… Alle opposizioni… Perché poi… Sai cosa succede… Non è tanto… La televisione di Mario Papa… Ma siccome… Li mettono su Facebook… I pezzettini… Fanno girare solo quel pezzetto… Eh beh… Io faccio girare meno… Eh beh… E faccio… E così però… Diseduchiamo… 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 Fintanto che… Ci può scattare anche l'incidente… Ci possono stagliare la rissa… Certo… Perché poi magari qualcuno si alza… Le cose… E allora questo… Se uno ha questo obiettivo… Perché quando è fatto… Con questa ostinazione… Spariamo di nuovo… Ora lo insultiamo… Ma lui… Alla fine… Se fanno questo conto… E uno dice… Io non lo devo fare… Io non lo devo fare… Perché questi lo fanno… E così via… Ma alla fine… Ripeto… Non sono candidato… Alla santificazione… Alla santificazione… No… San Francesco Aiello da Vittoria… No… No… Sono una persona… Un essere umano… Come tutti gli altri… Senti onorevole… Abbiamo già fatto… Tu non ci chiederai… Ma 21 minuti… Addirittura… Addirittura… Non abbiamo parlato in ente… Ma abbiamo fatto già 21 minuti… E fammi la domanda allora… Allora l'altra domanda… L'ultima è questa qua… Io ho sentito Pippo Zarba… L'altro giorno in televisione… C'è anche questa polemica del mercato ortofruttico… A parte i camionisti… Il prezzo… La benzina… Ne hanno tanti problemi… Anche loro… E dicono che la tua idea di tornare indietro… Di molti anni… Visto che loro… Avevano ottenuto… Questo accordo con i talmercati… Un finanziamento con il PNRR… Come via… Che attraverso i talmercati… Avrebbe preso dei milioni di euro… Tu come rispondi a questa cosa… Qual è il progetto dell'onorevole Aiello? Ma guarda… Indietro di molti anni… No… Ma sei tornato a fare… La riforma… La riforma… La riforma… La riforma che io ho già approvato in giunta… Deve andare ora in consiglio… Che trasforma la Vittoria Mercati… In Vittoria Multiservizi… Nuova e Maia Città… Così si chiama… Nuova e Maia Città… Sì… Nuova e Maia Città… Praticamente… In qualche modo… Ricalca quello che c'era… Fino a 20 giorni prima… Che arrivasse il commissario… No… Che io fosse… Mi insediasse… Fino a 20 giorni prima… Scusa… Perché… Sì… Sì… E te lo spiego… La gestione del mercato… Che è di proprietà fisicamente della regione… Affidata al comune di Vittoria… Perché lo costruisse… L'ente gestore è il comune di Vittoria… La Vittoria Mercati… Doveva solo fare i servizi… Realizzare e gestire i servizi… Con la riforma introdotta… Dieci giorni prima… Che io mi insediassi… Che io mi insediassi… Ma… Che si caricava… Un significato ideologico… Pesante… Intollerabile… Che era quello di dire… Qui ci siamo noi… E tutti voi… Non siete nessuno… Come la famosa… Nessuno… Né i contadini… Né i produttori… Né gli operatori commerciali… Ci siamo noi… E basta… Dopodiché… Dentro i mercati italiani… Vi è una… Una… Una lobby… Che è quella… Ma no… Impositivo… Che non sia normale… Normale… Per carità… I grandi mercati… Ma se tu vuoi partecipare al PNR… Come struttura mercatale… Hai bisogno di un sistema di relazioni… Esterne al mercato… Che parlino con Gomiso… Comune… Col comune di Pozzallo… Con gli altri comuni che hanno mercati… Scicli… Santa Croce… E io ho raccolto… Torno all'idea… Di partecipare a questo progetto… Sulla logistica della filiera agroalimentare… Con i comuni… Con i territori… Quindi… Aspetta… Non… Non… Con i territori… Loro dicono… Loro dicono… Che… Italmercati ha bisogno di interlocutori immediati… Che non sono bloccati da sette comuni… Il sindaco Aiello… No… Che ci telefona… No… No… E loro hanno questa preoccupazione… Ma qual è questa preoccupazione? La preoccupazione è che… Il ministero… Il progetto… Si presenta al ministero… No… Loro dicono… Lascia stare il PNRR… Ah… Il lavorare in un mercato… Chiaramente ci vuole una struttura agile… Che possa intervenire… Che possa decidere il prezzo… Se in mezzo c'è il comune… Che magari… Per decidere una cosa… Che può stare in consiglio comunale… No… Potrebbe essere… No… C'è il direttore di mercato… C'è il direttore di mercato… Che manca… Da tanti anni… Dobbiamo farlo… Certo… C'è… Ma non ricordi… Salvatore Gentile… 17 anni è stato direttore del mercato… Quindi il mercato… L'ente gestore è il comune… C'è il direttore di mercato… C'è l'ufficio del mercato… Tu mi gestisci i servizi mercatali… Su contratto… Che il socio unico… Che è il comune… Che è il comune… Affida la sua società… Non è una società altra… È del comune… Fermo un minuto… Fermo un minuto… Fermo un minuto… Fermo un minuto… Ma tu… Tu lo dici in realtà… Dove è il difetto… Anche se… Probabilmente non ne sei consapevole… Il mercato… I mercati sono strutture complesse… Certo… Non è un'azienda… In cui c'è il proprietario… È vero… E sono strutture complesse… Appartengono ai territori… I rappresentanti… Quando migliaia di produttori frequentano quella struttura… La struttura vive e si rafforza… Se c'è una sinergia… Questo è il progetto democratico… Se tu vuoi dire… Zaghe te… Che zaghe te… Qui ci sono migliaia di persone… Che come te… E come gli altri operatori della struttura… Convivono… E dobbiamo trovare una sintesi moderna… Che non è quella… Non è quella… La sintesi moderna è la tracciabilità… Ecco… La sinergia fra territorio e struttura… Questo portale importante… Io riesco a capire… Che è il mercato… Un portale d'uscita delle merci… Che dobbiamo qualificare… Lo dobbiamo fare assieme… Senza fuga in avanti… Non ce ne sono padroni… C'è il territorio… C'è il territorio… Ecco… Attenzione… Questo enorme capitale… Che è il mercato di Vittoria… Certo… Se c'è… Se è del comune… In qualche modo… Il comune deve poterlo controllare… Insomma… Questo è il discorso… Ma ci sono altre strade… C'è… C'è… C'è la commissione di mercato… C'è… Prevista dalla 125… Ci sono tutti gli organizzi… Ci dobbiamo stare tutti… Tutti… E il comune… E la struttura… Io… Certe volte… Mi stranizzavo… Mi stranizzo… Insomma… Lì ci sono stati decenni di battaglie… Che futuro ha dunque Vittoria oggi… Vittoria… Perché sai… Tu dovevi fare oggi un incontro sull'ordine pubblico… Sì… Non si è fatto… E non si è fatto… Sì… C'è questo problema dell'ordine pubblico… Ma io credo… C'è il problema… Abbiamo tre minuti… Perché dopo tre minuti ci danno… Io credo… Io credo… Io credo che gli organi dello Stato… Gli organi dello Stato in provincia di Ragusa… Siano partecipi e consapevoli… Del percorso che la città sta facendo… Che deve fare… Dei problemi che ha avuto… Ci sono stati importanti… Importanti interventi… In queste settimane… Che stanno rafforzando i presidi di legalità… Nella città… Con uomini… Con mezzi… Con mezzi… Quindi c'è un intervento qualitativo… E quantitativo dello Stato… Lo devo ammettere… Due giorni fa… È stato fatto dal signor Prefetto… Il Comitato provinciale per l'ordine pubblico… Al quale io sono stato lieto di partecipare… E di constatare… Che c'è un atteggiamento forte… Di intervento… Che mi dà… La possibilità di essere anche un poco ottimista… Sulle prospettive… È chiaro… Che… La gran parte… Va fatta dal territorio… Dalla città… E abbiamo… La città si deve difendere da sola… Sulla da certi punti di vista… La città… Si deve difendere con un livello organizzativo superiore… Con una consapevolezza dei valori del territorio… Che dobbiamo avere forti… Questo è importante… La consapevolezza… E sapere… Questo è quello che mi rende poi sicuro e ottimista… Che in profondità… In profondità… Vi è questa volontà larga dei vittoriesi… Della gente che lavora… Certo… Con una nuova generazione di imprenditori agricoli… Che si stanno muovendo… Per conquistare i mercati europei… Per fare cose nuove… Per innovare… Per ridare alla città… Slancio… C'è chi dice… Se fai i conti… E da lei viene il pericolo… Ma io sto dall'altra parte… Io sto con la parte che vuole andare avanti… La parte che vuole… Con una mentalità e una testa… Devo dirti… L'ho contesso… Che non è quella di Aiello del 78… Il leader del Partito Comunista del territorio… E quella di un sindaco… Perché questo mi reputo di essere… Certo… Di un sindaco che ha il dovere… Di esprimere questi interessi profondi… Della propria città… Della propria popolazione… Dell'impresa… In primis… Che è quella che ci assicura… L'amore e prospettiva… E credo… E chiudo… Di un sindaco che… Ora non è che voglio dire… Non ha più niente da chiedere… No… Non voglio dirti questo… E che devo chiedere… No… Appunto… Potrei chiedere… La salute… No… E me la tolgo… La salute… Con questo lavoro me la tolgo… Me la tolgo… Me la tolgo… Il mondo che mi ha fatto vincere… L'agenda lo sa questo… L'agenda lo sa questo… Che io lo faccio… Perché vuoi bene… Perché ci credo… Perché ci credo… Perché ci credo… Perché potrei starmene tranquillo e sereno… È vero… E invece ho questa malattia… Non ci posso fare niente… Allora, grazie Onorevole Aiello, ci hanno dato il premio, 31 minuti di intervista, quindi la più lunga che abbiamo fatto negli ultimi tempi. Grazie Onorevole Aiello, andiamo avanti col telegiornale. Grazie.